Buonasera a tutti e benvenuti a Sosite Kitchen! Ma vediamo la ricetta di stasera direttamente dal Far West Cowboy Bean e Cornbread con formaggio Ma vediamo la ricetta di stasera per 16 persone Mezzo stico di maiale a testa Due chili e mezzo di fagioli, borlotti Già allessati Una confezione di cipolla, non ci vuol tanta cipolla Due belle teste d'aglio e mezzo Un po' di pancetta Il solito mezzo chilo di burro Una confezione di caffè Farina Latte Un tubetto di ketchup E questo è fondamentale Un tubetto di salsa barbecue E' una salsa dolce Simile al ketchup Però affumicata E dà un sapore da affumicare Panna acida Se c'è Se no è uguale Un po' di sottilette Questo è bicarbonato di soda Un po' di lievito Un po' di lievito La solita quantità esagerata di peperoncino Quattro uova E un chilo e mezzo di farina di mais Attenzione Non poverita Mi raccomando Deve essere farina fine Perché la polenta è grossa E ci serve la farina fine di mais Ricordatevi le nostre prerogative Noi siamo contro una sorta cucina italiana Siamo a favore di una morte prematura E soprattutto Con 30 euro Facciamo mangiare 16 persone Allora Fate sciogliere intanto la fraccetta di maiale Con un po' d'olio Quando la pancetta si è un po' rosolata Si mette aglio e cipolla Ok Mentre inizia a cuocere la cipolla e l'aglio Con la pancetta Preparate una caffettina e mezzo Ok? Lo so che vi importa l'idea di mettere il caffè Nei fagioli Però È proprio storico della ricetta Perché i cowboy Non usavano l'acqua C'erano nella borraccia Si facevano il caffè E ce lo mettevano dentro E siccome la salsa barbecue È molto dolcina Il caffè Ti dà un sapore di Cioè contrasta l'amaro con dolce E non si sente il sapore del caffè È boh Ok Quando la cipolla e l'aglio Sono un pochino più marroncini Si mette la carne Ma si lascia proprio due secondi Se no brucia Perché poi c'è da metterci l'acqua Il caffè E il sale Ok? Ok? Aggiungete l'acqua Un po' per volta In modo che gli stiti Siano abbastanza sommersi Il caffè E il sale Ok? Il caffè è pronto Fate come i cowboy E a cuore leggero Lo mettete nella carne Ok? Quando gli stiti sono sommersi Lasciate a cuocere Intanto 45 minuti A fuoco tranquillo Stiamo saltando Ok? Mentre prepariamo gli stiti Prepariamo il cornbread Un chilo di farina di mais Che sono nove tazze E ci mettete tre tazze Di farina bianca E la mischiate Ok? Più ci mettete I lievi di un polvere Tre cucchiaini di bicarbonato Siamo fatto? Sì Un pochino di zucchero Ok Ok Ammetto chilo di burro Ora ci mettete 6 tazze di latte E l'uomo E adesso ci mettete Il formaggio a pezzettini Scolate i fagioni E prima di mettere i fagioni E poi ci mettete la salsa valli E poi ci viene Non importa aggiungere la pomarola E' già fuggosa Con la salsa valli Ok? Quando vedete I fagioni sono già cotti ovviamente Quando vedete che Lo stinque E' un po' più di metà cottura Ci mettete i fagioni E non vi preoccupate Che si spacchino Perché non c'è un ambiente acido E dice che i fagioni Non si spacchino Se c'è un ambiente acido Ma chi è da te? Buttateci i fagioni Ma chi è da te? Buttateci i fagioni Per una mezz'ora Fateli riposare un po' Tagliate la torta di mais E vi mettete nel piatto Torta di mais Un po' di fagioni con la carne Un po' di salsa acida E un po' di formaggio E un po' di salsa acida E un po' di formaggio E un po' di fagioni E una lezione achten Grazie a tutti.